Dobbiamo difendere le pesanti! Ma sta invisibile a casa tua! Ci sono uno! Ci sono due! Pesanti! Esco! Mi ammazzo! Esco! Bene, ne basta la pena! Welcome to the Once More I Said Show! Eh, anche sua! Ma quanto lag ha quello! Fermatelo! Ok, è morto adesso! Eh, ma è morto tardi! Eh, sta laggando! Sì, sì, sì! Fuck you, dude! Let's go! Stavo correndo dietro al posto! Eh, lo so, lo so! Non l'ho visto! Let's go! Morta degli architetti! Let's go! Wow! Che shottata che gli ho fatto questo! Ah! Oh oh! Non lo scappate! È più su di me questa astra! Ma guarda un po'! Dude! Astra del... Sti cazzi! Sì! Che lagga così tanto! Ma smetti di sparare dietro i Cheatans! Smettila! Eh, subisce la mer... Bravo Dado! Let's go! Sinceramente, let's fucking go! No! Non c'ho più munizioni però! Non importa! Bene! Abbiamo un po' di problemi qua! Aspettatemi! Scusa! Ho dovuto! Oh no! Let's go! Vabbè però... Va bene! Ti hai perdonato solo perchè hai fatto la super! Let's go! Oh Dado! Dado con l'hai preso? Ah, dall'aria! Uno sotto! Basta! Dopi danni! Quanto cazzo che ho avuto dude! Oh! Ma... Incredibile! Ho chiuduto! Ma cosa stavamo facendo? No! No! Come ha fatto a sapare? No! E' una cazzo di saponetta! Ma è quella che... Fuck you dude! Oh! E' questo? Dove vai? Dove vai? Dove vai? Ma questo corre e basta! Non capisco! Ma si ma poi... Lo colpisce in realtà non... S'hanno rimessa! Ah! Magari la compro stavolta! Senza robot! Ehi che non... Continuo a non poter vedere... Va bene! Zendardo fai come vuoi allora... Continuo a chiuderla! Va bene! Aia! Chiuduto! What the fuck? E' stato molto... No! Aiuto! Aiuto! Nooo dude! E' stato molto bello... Però... E' finito! E' pesante? Sarà un problema! No! Oddio sono one shot! Holy shit! E' uno da... Non è bello! Non è bello! Subì un sacco di gente! Eh scusate ma... Sto un attimo facendo schifo! Oh cazzo! Godo! Eh questo è un po' meno... Progete la progete! Yoooo! E vabbè minchia! Granate di qua! Granate di là! E' pieno! E' pieno! Sono tutti qua dentro! Non me! E' one! Ti prego muori! Ce n'è un altro! Nooo cazzo! Ne ho uccisi solo due! Vabbè peccato! Minchia ragazzi! E' stato molto brutto questo da vedere! Ho i diritti di te! Dubstap e lombi! Eh... Granato! No! Scendo unità! Ahhhh! Let's go! No! Ok l'ho presa! Arriva! Sì! Sono morta! Non è vero! Sono vivo! Le mie speciali! Let's go! Mamma mia ragazzi! Ma chiudono? Oddio! No! Ok! Chiudono anche me! Bene! Sono morto! Non morite! Eeeeeee! We win this! Molto bene! Let's go! GG! Io c'ho un'altra granata giusto! Ho ancora un po' di granata perché ho visto che non bastavano lì! Sì! Vabbè! Io ho tirato la mia! Ho contribuito! No! Gruzzola sotto il culo! Mi piace che il lobby riesce da tenersi praticamente otto persone insieme! Morirò sicuro perché non c'ho... Vabbè! Come tutti noi! E' una cosa certa! Ah vero vero! Una sicurezza! Ehi quanti sono! Aiuto! Questa era quella shatter! Eh vabbè! Hai visto? Ahia! Vieni qua dietro! Vieni qua dietro! Vieni qua dietro! Vieni qua dietro! Nice! Subì! Intorti napoletani in 3... 2... Ok! Che senso scusa! 7! No! È un shot! Dobbiamo difendere le pesanti! Eh ci provo ci provo! Ma sta invisibile a casa tua là! Ho ucciso uno! Ci sono due! Pesanti! Let's go! Mi ammazzo! Let's go! Bene ne basta appena! Adesso ci vedo! Sono l'unica che non usa il galla! Sono pesante se non è! Guarda ormai siamo pochi! Siete pochi anzi! Dai! E vai! E vai! E vai! C'è uno qua dietro? E' uno shottato! E' uno shottato! Ma perché? Con la super una volta sola nella partita può essere shottata in un secondo! No! Me l'ha tolta lo stesso! Un po' ti odio sinceramente! Sì! Ho sparato a Edra! Mi hai fatto un colpo in faccia infatti! Capito che mi odi però! Vabbè pure io che manco il tizazzo della shatter! Giù l'ora! Va bene! Non vedo! Sinistra! Vaffanculo la spada! Preso! No! Ho attivato Trance ma era morto! No! Ho preso! Sì! Trance! Suca! Ti bag! Prego tutti! No ma Destiny si gioca lealmente! Sì sì! Molto rispetto per gli avversari! Tutti quanti col fair play! Ci mancherebbe! Eh no! Eh no! Stai dietro l'angolo! T'ho ucciso! Aaaah! Zona! Il killer delle super! Basta! Lui ha fatto 5-6 kill! Lui ha Borpal come abilità passiva! Lui ha Borpal come abilità passiva! Domini le zone però! Dai su! Lui c'erano tutti! Mi ero genticato! Eh è vero! Mamma mia! Mi sta vedendo un embolo te lo giuro! Tiro nei panni di un numero! E' pesante signori! E' signora! C'è uno col mitoclatza! E' signorina! Porto! Mi ha chiamato signora ragazzi! Signorina! Ti è vecchia! Chi è entrato? Ma vedo che... Df Mango! Df Mango! Df Mango! Df Mango! Cazzo mi spara! Ma guarda te! Eh sopra! Eh ragazzi! Dovrei andare a cucinare! Io un paio ne avrei! Mi interessa che... Gli li direi tipo... Oh no! Come? Eh? No! Non è la parola per l'amico qua! Mi sei nascosto la sua... La sua figlia di... Nooo! Oh! Oh! Lo stiamo uccidendo quello lì eh? Beh! Questo ha preso! Questo arriva così! Garen! Questo ha preso! Io sono sul mio canale YouTube delle vecchie stream di YouTube... Sì sì vabbè ciao vabbè! No 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 no! Non il streaming! Streammando il streaming che giochi! Cioè... Oh no! Ti metti su PS Now! Che la piace now? Eh... Con la connessione buona che ti ritrovi! Comunque... Eh Diego! Stubare! Questa pompa ogni tanto mi tradisce! Devi scaricare qualcosa Diego! Scaricare l'applicazione o usare Chrome! È proprio uno sponsor! Usare Chrome! Oh! Faccio le pese però ho visto il giro! Vado vado vado! Vado vado! Addio! Le difende dal costo della vita! Tranquilli ci ho messo una granata sulle pesante! Ci ho messo di tutto sulle pesante! Ci ho messo di tutto sulle pesante! Ci ho messo di tutto! Cioè chi mette una pietra sopra lì ci mette le granate! Madonna ci ho messo veramente di tutto su quelle pesante! Eh sono tipo 3, 4, tutti su C! L'abbonamento pagante e l'abbonamento per la 380 sono separati! Quando... Quando non sei in live siamo solo noi due! È morto! Sì! Sei in hard 2 lag in tutti i sensi proprio! Io ne ammazzo uno e muoio! Ne ammazzo uno e muoio! Beh beh! È positivo comunque! Almeno ne amatti uno, a differenza mia! Hai spartato, ti spartati! Dici uno a me se glieli butterei pure! Eh Thomas però dai su! Oh c'e' un altro con MitoClass ma perchè? Ho anche detto Thomas dai su, K! Magari! Sostieni Corsari, con solo 2 euro al mese puoi fare in modo che non rimangano per l'eternità a sparare ad una nave immobile, grazie al tuo aiuto Tutto questo può finire, chiama ora da fisso o mobile il 777.777.777. Qualcuno avverta se anche e ne ne serve più la bolla faccina che ride a crepapelle Schizzi bollenti? Schizzi bollenti sulla faccia di dado? Era caldo e liquido